Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito safegatepro.com Bentornati all'appuntamento con le previsioni del tempo. Per questo venerdì l'alta pressione dell'Azore torna a rinconquistare tutta Italia. Questa volta sarà alimentata da aria molto mite, proveniente dall'area tropicale marittima, ovvero dall'Atlantico centrale. Quest'aria più mite si farà sentire su tutta Italia, porterà un netto aumento termico ed ovviamente tempo stabile quasi ovunque. Solo l'alto tirreno, il Mar Ligure, se la vedrà con le solite nubi basse, a causa degli elevati tassi di umidità. In Abruzzo giornata stabile e dal sapore quasi primaverile. Avremo temperature massime fino a 16 o 17 gradi tra Pescara e Chieti, ma clima gradevole anche in montagna. Le massime sull'Aquila si aggiriranno attorno agli 11-12 gradi. Aumentano leggermente anche le minime, si porteranno tra i 3 e i 9 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo appuntamento. Safegate Pro. Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito.